Il premio del mercato non possiamo parlare, al momento posso solo confermarvi che è una minorità e che sarà il processo parte oggi, quindi voglio che siamo primissimi, soprattutto che pensiamo che più o meno metà anno, 1 luglio dovrebbe essere completato, ma oltre questo non posso aggiungere altro. Mentre i benefici attesi, l'unico numero che abbiamo comunicato e pubblicare molti totali del mercato è che da queste operazioni ci attendiamo, le operazioni obviate nel corso dell'anno ci attendiamo il beneficio di 30 centesimi del mercato.